Nella nostra azienda lo stile di leadership si è evoluto molto negli ultimi anni. Siamo passati da uno stile molto legato alle disposizioni dall'alto, quindi un top down, ad uno stile che attualmente è molto legato alla condivisione, conoscenza degli obiettivi, quindi il primo elemento che abbiamo voluto sviluppare è la condivisione del piano strategico, quindi tutti i manager intermedi, tutti i capi funzione, tutte le persone che hanno un ruolo di guida all'interno dell'azienda conoscono la strategia, conoscono l'obiettivo nel medio termine. Detto questo abbiamo lavorato molto per rendere sempre più condiviso il piano d'azione, soprattutto legato alle attività operative di stabilimento. Io gestisco due stabilimenti, quindi sono più di 500 persone, quindi una struttura abbastanza complessa, ma il tema fondamentale è stato quello della guida principalmente improntata sul coaching. Quindi abbiamo condiviso con i nostri manager percorsi di coaching, in modo che la crescita delle risorse sia la naturale conseguenza di questo stile di guida. Personalmente mi sono molto impegnato con le giovani leve, con le quali abbiamo messo in pratica il sistema cosiddetto del reverse mentoring, cioè andare ad utilizzare e a lasciare spazio ai giovani, per giovani si intendono le persone che hanno una conoscenza specifica proveniente da ambienti accademici, che normalmente sono più bravi di noi, che abbiamo qualche anno in più, e quindi lasciamo spazio a queste persone per sviluppare temi nei quali loro sono particolarmente a loro agio. E detto questo, ogni due mesi, un mese e mezzo, due mesi, abbiamo degli incontri che provengono, diciamo, da questi temi per considerare le proposte che ci vengono fatte da questi ragazzi. Mi riferisco soprattutto ai temi della data analytics, data science, quindi algoritmi di valutazione dei dati, nei quali i giovani sono molto più bravi di noi. Quindi una massima apertura affinché le caratteristiche, le conoscenze degli individui vengano sviluppate al massimo. Detto questo, abbiamo un vantaggio reciproco, perché i giovani hanno una soddisfazione nel poter condividere i loro contenuti con le seniority dello stabilimento e contemporaneamente le seniority dello stabilimento acquisiscono nuove conoscenze. E questi percorsi, che io ho denominato corridoi verticali, permettono di andare oltre ai livelli gerarchici. Quindi è un tema che ci sta particolarmente a cuore, lo sviluppo dei giovani e uno stile di coaching.